oh diaccomi poste vado a ranked subito si 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 ma davano anche mio compagno che prende i pali porca quando la partita di prima io sono più o meno arrivato a metà l'ho visto in live cioè o all'inizio ho mettato la fine numero il corpo l'ho preso due pali poi altri due quando c'è reti che è scritto però abbiamo vinto destra un fk no? no no si so svegliati non sono fk è uno boost non la tocco è una fortuna che non ho fatto il redirect in port sarebbe stato alquanto ambiguo dato che non li so fare lo faccio con l'autogol ecco qui madonna devo svegliarmi sono svegliato 10 minuti fa la merda con lì cosi vai destra si si ok volevo passarti ma infatti l'avevo capito però eravamo arrivati in fondo campana certo dovevo pure girarmi andrei via vai tu? ok dove? alla sinistra no madonna qua circo io no vabbè così no a destra o pazzo mamma 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 torri incoglionito nero eh porca puttazza no hai visto un volo tipo fake e poi sei sì cioè volevo fakearlo poi dopo non volava ho detto che cazzo fake uno che non vola dopo ho cominciato a girare con una trottola e ne ha fatto il pass tanto io qui l'unica era che potevo volare era l'ovvio che gli facesse il pass il pass più brutto che si può fare a sinistra buttalo buttalo cosa stava parlando ah guarda lascia stare bello te la do a sinistra vabbè niente lui sembra che mi sente si è messo nella posizione perfetta per non farmi andare a sinistra no niente te sto proprio handicappato ma che cazzo c'ho oggi no che cazzo te che cosa ho fatto è domenica no te che non ho domenica di me fatta sta partita vado un attimo a sciacquarvi la faccia beve bira beve un pelo d'acqua ho vinto il 50 oddio vabbè ti giuro sai che non ho mai fatto un gol così in autogol non penso faccio sempre una prima volta coddio non pensò fosse così veloce prima madonna 100 che coglia che coglia è brutto t adesso che ha solo quello segno no vabbè eh ce l'hai ce l'hai? ok madonna vorreva che non facciassi gol no dai come ho fatto un forgo ti proprio sono handicappato nero scusa ma è nrg veramente questo sculato no ma ti pare nrg ma finchia tutto fa f**k 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 che cazba ya andò un lui ralì fatto un pass f**k ma eh madonna madonna guarda non proprio non ne posso vedere eh domenica anch'io si vabbè tec sono tutti i gol che faccio tranquillamente eh ma io la odio la domenica per questo ah le ha rotto il cazzo quello bravo si al tenero no 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 dè3 E' ovvio Era uno boost tech Era buono Come ha fatto a ritoccare Che bimbo Dai Vado Che partita di me But it's not about the pain It's about keeping me sane So I stay within my veins Feel my blood bump through my veins Feel adrenaline, no pain Welcome all to my domain So let me break, break, break it all down to you I ain't never giving up, I ain't never giving up Take, take, taking that crown from you I ain't worried about you, I ain't never giving up So let me break, break, break it all down to you I ain't never giving up, I ain't never giving up Ok Non so, facciamo un culo a tutte cose A tutti Un po' chiedo alla finestra Vai tu E' che presto sono un po' più tardi di noi Eh? No Cioè sì, sono più tardi di noi Però Nel senso non è che non stanno giocare Vai tech Madonna ma spin È inuito È in οποini di noi Non sto contando Ma È un po' più tardi è un po' più tardi di noi L'ho vinto, finalmente. Dove essere? No, però non li do. Sorry. Vieni un killo per anni. Ok. Niente. Che cazzo paga? Tiro storto, cioè non... Tech qua? Cazzo. Palo. Eh vabbè. Vai pure, vai pure. No, ok, no vabbè. Un attimo. Palo. Vai pure. Troppo. Troppo. Guarda che pezzo di culo. Sì sì, l'aspetto, ma... Ma... Maria. Che scuola, madame. Tec di merda, madame. Puttana. Tec. Ma no! Tec, tec. Tec. No, non poteva entrare, cioè almeno... Poteva, ma cazzo era un gollino difficile. Dai. Io avevo fatto una roba che se entrava. Eh. Ehm. Vai salt. Vai salt. Vai. Vai salt. Vai salt. Vai salt. Non so se c'è eritek. No. Se c'è se è qui? Ah, ma l'opriendo. Que fin. Puttana. No, tec. Niente. Cioè, come perdere le partite noi non è possibile. Porco di demone. Ma che cazzo? Quanti ne abbiamo presi? Ciao Raiden. 8. Dio, cane. 8 ne abbiamo presi, non lo so ora. Cioè, Raiden in partita, vieni con noi. Cazzo che perdiamo i padri. Ma figa! No, io non ci credo. No, no, ma fa ridere questa cosa. Eh. Ah, sì? Ho perso anche, ma mi sto divertendo, guardo. Porco di demone. Non è possibile. Ma Dio! tanto due a zero. Vabbè, fai il culo. Io poi non si può, non si può Quanti ne abbiamo presi, Tec? Tec Tec Io finché non ti sento non parto Tec Oio, ci sei Ah Respetta la make it mother la make it mother la make it mother la make it mother tec ti senti? tec? parla? senti? si ok si può con il microfono con il cavo del joystick chi sei? aspetta che c'è Raiden vuol giocare anche lui no si si è lui macciola dai intanto mi rivedo un po' i pali va bene ora faccio un tras ma viene con il divano viene penso che si non lo vedo ancora prova a scrivergli semmai no no ma adesso dovrei andare sul disco almeno ho capito come cazzo è possibile so far Raiden ho bisogno di una mano Raiden no niente ho bisogno di una mano mi sa che tipo ho bisogno del tuffo non so no tipo di problemi ha questo cazzo dai ma ha detto che entra si si dovrebbe c'è c'è uno che ha una parata e l'ha buttata sul palo l'altra l'ho tirata io è andata l'altra è andata sul palo è tornata la tolta lui potevo sognare io no non ce l'ho fa non ce l'ho fa l'ho fa è andata è andata è andata è andata ecco lì ehi oh arrivo un secondo quanto dovrà un secondo dalle sue parti? mazzo ok posso posso divano? eh sto andando gasa no per di tempo vendo divano rosso, sfondo bianco no per di tempo anche lo sfondo ti vendo oh mio dio si è aggiornato qualcosa ma non ci sei cosa? no è un attimo non mi riapre steam oh ok ok divane operativo divane operativo lo vediamo si questa volta operativo ecco lo scarso grazie direttora hanked si si certo dai ah asf solo mi sa una partita da lascia devo scendere perchè con zino ne abbiamo perso 2 3 di fila dove? in 3 giocavano contro dei grand champion che boi io non riuscivo a giocarci dato che non ci gioco mai no? vabbè dai hai visto i pali Raiden? eh? hai visto quanti pali? si quello che io ti dirò che l'aveva ritirata dall'intero c'era convinta che era dentro ero convinto fosse dentro infatti l'ho messa sul gruppo quella quando io tipo ho tirato era gol l'altro l'ha pinciata mezza dentro mezza fuori sul palo e l'ha ritirata fuori io no vabbè quella no ma tu tutto un palo è stato comunque quella lì potrei buttarla dentro quella dove si era pinciata e la rimessa in mezzo ok io sì ma qualcuno mi aveva detto che andavo ehm no ma c'eravate voi due davanti vi ricordi ah e vai te va bella va i bug vai di mano gli egypti Onix un po' lunga eh Zardo ero io ah si vuoi il raid dai vado ma che cazzo è venuto a fare rubarmi il boost in difesa da me quello non lo sai ci sei? no non c'è nessuno tu l'antac va bene va bene ci va what the f*** occhio qua ok eh vabbè ma tutti che stanno messando si se tutti la pensano un po' adesso non la prende ma ma dai vai come bellissimo bello ma sei dai va anche te gomma? no no sei rincoglionito nero come sono adesso c'è la cataratta nell'audio comunque io avevo bisogno di un sabato per dormire perché fine settimana ero totalmente ero pernemente stanco ovviamente quando non ti senti per niente lucido e dopo il suo gioco non riesci a giocare un card ma riesco a fare niente adesso che mi sono riposato benvene già vedo che ti sto giocando meglio eh non ci sono eh uno su gru tech no eh no non posso cazzo aspetta 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 ok ce l'ho non c'è più boost vado ecco non ce l'ho occhio ce l'hai ancora? ah ho beccato la tua macchina c'ho senza di boost in porta basta vabbè vabbè sali tu pala sto aspettando il boost vabbè è uscito dopo già giustamente bai tech? eh scuola non è un bai tech per passaggio devi tirare io volevo solo duncare quello che la prendeva ma non l'ha presa ah cool colpi con palo ok ah we're free 4 posso andare sinistra ok c'è lui bello il palo ah è stack vai pass attenzia ma che cazzo ma vaffanculo vai pass tech vaffanculo che è il pass vabbè e non rimbalza neanche sulla riga e rimane lì no diventamente dentro ha preso anche l'angolino che la sparava fuori ah vabbè stile pensa che è schifo qui fa posso doncare una volta fin devo stare a tiralater io non ci credo che trovano un'angolazione per non farmela toccare invece ho la macchina che invisibile vai 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 fra destra e lo sapevo c'era lui ce l'ho vado vado ah ribba vabbè sono scena questo ma che cazzo mi hai bumpato tec devi andare subito stivano? eh c'è no tec che merda la donna will di me ma stavo facendo la combo vai destra un coglione no Gakoon eh 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 vabbè vuota ttico for man insane che bella angolino eh ma che cazzo che cazzo è successo? non ho capito hai servo? te la do? eh vabbè niente tu hai capito? ok l'ho bloccato tornate indietro uno? si si ci sono vai raide? vado no eh ma qua eh qui raga non so come andare casca 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 che scuro ah scusate eh ci stavo andando io eh pensavo non avevi boost sto vedendo non so come andare no no è che quando rimbalza così è già che volto a volare diversamente eh ma lì si vedeva che droppava eh ma non l'avevo capito perchè ero dentro la porta non lo vedevo l'angolino ancora vai ancora te buono non ci arrivo eh non ci arrivo eh 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 non lo prendo io devo prenderlo l'altro devo andare in mezzo con che logica te la riesco a buttare in mezzo che mi stava cazzo nel senso ho visto che sei storto dopo l'ho visto che storto vado io sinistra avanti ancora ehi vai zai sì ma se un attimo rischio è un pelo meno mi ha bancato potete tornare poi vai vai zazza non ce l'è non ce l'è non ce l'è what the fuck tec vai hai bloccato eh devi andare devi andare prima eh ma hai bloccato eh lo sono perché dovevo andare prima beh prima non avevo brusi ezz ciao comunque secondo me i due gol non dovevamo prendere quei due gol d'ha scherzato perché ne... ci potete vincere molto di più no vabbè il secondo è un po' più di sfiga dai non ho bampato cioè non è che uso il primo proprio toccava parlare quanti sono preso palazzo? 10 e quanti ne ho? 1.400 giusto no guardo nero vai vai ah tocca a me oh lies on me vincchia ci sono ancora i fulmini gialli cazzo si non li tolgo ma tecma che cazzo come fai ad arrancare così velocemente? solo te lo sai? oh io ho perso 125 punti eh non so non me lo parlare ne avevo persi... ne avevo persi 280 io che vero son tornato c1 divise ne ho uno che schifo infatti che l'avevo visto ieri in live da te palaz eh in run run che dove stavi facendo le run run dove aveva tipo 2.000 punti? ma chi? ma che? ah no bomba il bug cazzo bug non c'è un boost torno ho venculato? ah no bello ho fatto la fake per te vado 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 scusa vai 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 torno ah ah beh guarda li ho fakeati tutti palazzo inventato ma no eh no non è di nuovo c'avevo il boost come ha fatto a fregarmelo va bodyblock ma dai dietetelo sei lisciante te scaccia te la scaccia? oh no ma vaffa culo dai ma questo è esattamente il tiro questo che ho fatto io prima su quel pallo di nerf eri un po più laterale eh vaffa culo che è laterale Seguo Ezz Ah va dal centro se riesci Eh non ce la faccio, l'ho bloccata Occhio Dietro, dietro, stack dietro, ok No, 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 no Bravissimo No, no, ce l'hai tu No, no, ce l'hai tu Non ho boost, vado a prendere il boost qua In mezzo Non ci arrivo Eh, non ho boost Manco io ce l'avevo Cazzo, cazzo, no Bravo, quella goccia Grande, diva Oh, diva No, no, no Tec, tutto nella tua inizia Che cazzo arriva? Chiudi, chiudi subito Bravo No, è una perfetta Una palazzo Eh, non volevo ficare Non ce l'ho Ah, perfetto Ce l'avevo bene, perchè mi ha attaccato veloce Non sono visfo, questi Ma? Palo, ma Backboard Ok Ah, ho tirato maghissimi Ma Più uno? Ah, sì, ma non capivo di chi le due me l'avrebbe toccato C'è poco boost io C'è poco boost io No, non capisco WTF C'era l'unica avrebbe tirato Tec, tec, tec What? Che angolino Non me l'aspettavo Aspettavo un passaggio in mezzo da sto qua Pulse di merda La magica tavo passasse E' vero E' che va? Io, io E' vero E' vero Ma dove ha missata? Non ci posso fare Calato per il dunk Vai Torna Cosa? Nice Tec, è il portavolto Oh, l'ho lisciata tantissimo No, no, vuol di merda Ma cosa c'entra? Non lo so Tec Tec Vado, avevi tutto il tempo Lì era una palla normale Vai black, proseguo Via Nice Uno subito Oh mio dio Cazzo Cazzo Sono i questi Sto tornando Niente, lui passa Lui ed io Vabbè, è mezzo Per riuscire Per la coach Invece c'ho fatto Vabbè Vabbè, che cazzo ha fatto Vabbè, c'era il terzo Potete andare a... Non ce l'ha? Non ce l'ha? Buono palo Viazzi Ma dai Tinto Eh niente No Oh, cazzo Posso avere... Invece non ti dici Puro bè Vabbè, questo si diverte a far freestyle il run Tec, subito Madonna, mi spinge come una merda Vabbè C'è un po' Pallo C'è un po' C'è un po' C'è un po' Desso nice tecchi in mezzo tecchi in mezzo no a me non ci credo eh ma me l'ha parata, a me non potevo fare un angolo più di così no come da qui non era possibile una parata così cioè lui no ma lui se l'aspettava lì ma che cazzo vuol dire eh certo certo come no boom dimmi il cazzo che canna sto deficiente ti si posta la macchina di sopra eh vabbè ma non è possibile quanto è che ho perso Raiden di meno o di più dai dieci sempre ah madonna non ti metterne anche a riscordare con quello si aspetta apri un decodificatore ma perché ha scritto pulso tag che cazzo vuol dire posso mettere mega tag pulso anche io quanto ci vuole cosa devo aprire le zephyr ragazzi cazzo mi sono a cassa scelta del giocatore sono migliori vero apri tu che stava fatto giacoli che schifo è octane signore dei draghi ma andiamo a capire octane bianca si magari avrei fatto octane signore che schifo è octane bianca no octane bianca un'altra volta no dai muoviamoci cazzo arrivo siamo qua intanto giochiamo sto facendo i trade raga posso fare un'altra che poi alle 11 devo scendere in venti minuti mi sa quarto duro ma dove devi scendere? di sotto a mio palo devo aiutare a caricare cazzo tra un po' mi divido che vado con dark e ah ma volendo andare sotto al lino vado seguite ovviamente quando segui ma niente chiaramente eh non ci va sei buongiorno sei buongiorno vorrei una testa per riuscire a giocare a sto gioco non ci arrivo diciamo cosa facciamo quando torniamo eh? destra? non ci arrivo torno ma non ci arrivo non ci arrivo non ci arrivo ah si si no dai un casca nelle fake cazzarla dai cosa è successo? si torna io io cazzo 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 salgo lo butto lì ok sto sul muro aspetta un attimo ok vai guardi eh poteva mandarci questi sono un po' più lenti vado tocca stare attenti perchè non sanno a giocare questi quindi arrivano le giocate a culo eh vabbè si sul di me ok ok vabbè mi ha spinto fino a dentro la loro porta ragazzi non c'è un boost non c'è un boost non dobbiamo salire tutti e tre ma io non sono salito ma ho spinto fino a quassù ah molto male sai cosa vuol dire? ecco tipo così esco da una porta e mi portano via già vado ce l'hai? si e non è boost se se ce l'hai madonna che palla quell'angolo lì no? resta in porta tec non c'era inutile che stavi su anche te se sto giù arriva su se sto su arriva giù ne lo so ma allora dovevi prendere subito non aspettare sinistra si madonna che è che mantici ce l'ho eh tornate neanche loro sanno cosa fare mi sono dietro di te si vabbè che è che è che è torna non c'è 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 ma c'è non c'è ma c'è un po' ma fa vale nice tec bello sembrava che volevi farmi male con quel pallone eh mi mette la palla bruciata che te lo schiaffi in faccia non c'è uno subito su di me ok vai tu oh fake no ma che fake devo tirare zio canno so che non era quella bolca occhio non c'è vado non c'ho la donna sempre indietro no sinistra ma non ho boost ragazzi ci arrivo sinistra sinistra eh puntavo a saltarlo no vai tu dai no dai ma che è sta roba adesso ho visto pure a farle dai ma sono tutti frappi appiccicati non c'ho boost ok ma è buona? che palla sa io ma sto scendendo guarda scendi guarda scendi aspetta stucco guarda il cazzo dio poi eh guarda guarda perdiamo di più no niente boh nooo non seguitemi così tanto ma cos'è che vuoi da me? prenditela con lui e te che cazzo segui? io dove ero? io in realtà stavo tornando lull ah qua è colpa niente l'estai tec come vete ma cazzo vera i tec ok guarda io che cazzo bello bello p***n anima croce anche corriendo dal soffitto easy ehi zeybol ciao ciao zeybol zable io non lo saluto raga se lo salutassi sarei scontato perchè Oh madonna sti firti, c'è sti tipo uno subito Vabbè niente, fanno il tocco a struso da lì Niente, posto, go, no, palo Palo Ma, in due l'hanno vinciata C'è questo strusso, non posso stare Ce l'hai ancora? No Ce l'ho io? No Lasciala, lasciala cadere Impossibile Vabbè Vado io A destra Seguo Niente, al centro Porca puttana, era appiccicato, era più vicino di me Sta tornando C'è poco busto, ragazzi Vabbè Un grano l'alza minimamente Guardate, tornate, se non c'è più che cazzo Ma come cazzo escono, sti tiglio Non te lo dico subito Che cazzo l'ha fatto? Escono perché gli lasci la palla scoperta, gli l'alzi pure Nel cazzo Lo spettavate ormai Insomma, io la controlli tra i latini con la macchina verso la porta, in modo che gli blocchi il tiro Ah, io così ho perso il C-3 Gli lasci tirare, praticamente Ma quanti punti ho per non averlo perso? 1.381 A 80 scende Ah sì? Sì Vai, giochiamo ancora? Che ore sono? Sì, posso fare un'altra con le voce però Sì, però Ce la perdiamo o ho desistato il gioco? Eh, ma che mai desistato il gioco? Questi facevano anche a gara, bastava avere un po' di più di cervello Eh, ma abbiamo sbagliato troppo I golvi? Sì, quello si chiama Li prendiamo perché giochiamo male Cioè, facciamo gli errori, non perché sono bravi No, gli errori stupidi di... Vabbè, zardo io non ci vado Vabbè, merda raga, mi si è baggato il joystick Allora, avete rotto il cazzo, voi due vi dovete decidere Uno che va dal kickoff, dio porco, sì Non è possibile che dobbiamo perdere il kickoff Ci sei o no con quel joystick? Sì, sì, ci sono Torna Raghi, i primi secondi, non so, non so, a caso Non fa niente A caso mi si muove la visuale da sola Non ce l'ho Torna Ma gli vanno? Non ci sono Zardo, se ti smettono di spingere Ah, sarebbe molto gradito Però gli ho cominciato a fregare tutti i boost Voglio vedere dove arriva Aspetta, regà, l'ho bampato Grazie, se no me l'ha toglita L'ho bampato, vero? Sì? Sì, ma tanto non l'avrebbe preso Secondo me sì Perché col fink poteva arrivarci A culo o no sì? Eh, a culo sì Per non rischiare Eh, guarda, adesso la schiacci... Manca offline qui Furava, guardava le patate Meglio, mi tocca da rancare per degli imbecilli che giocano Reporting quiz No, no il cazzo, te lo lascio lì in partita Rafa, il fak cesus Blah 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 No far roba Vado io, vado io, dia. Se ci metrò metteva sempre te, vai tra voi due vi dovete decidere godo 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 butta avanti butta avanti lost connection ma resta sua va eh però qualcuno indipende vada io vada io che schifo di trucco ma no cosa devo dire stavo tornando io sta tornando io ma è tornato è come se non ci fosse è come se non ci fosse facciamo stare e questo l'ha scritto lui è uscito di nuovo e niente no no tec dai ma gg i guess gg i guess si gg infatti dai possiamo farlo niente ma quanti punti ho preso dimmi 12 no erano bassi come la merda che cazzo dai 10 10 sempre va bene va bene va bene si si come no 10 più 6 più 6 che cazzo erano bassissimi questi quindi sono a 1386 che schifo che schifo ma 1386 che schifo che schifo bene va bene bella sta partita tec tec ci siamo assicurati che cazzo vuoi dire sta cosa dj bello non fa neanche uscire dj stanno giocando una partita che cazzo noi eravamo in partita ma c'eravamo solo noi due in lobby c'era per farti capire ma che cosa raga raga giochiamo in oceania dai movi e fuga eh ma tec sta giocando mi dice non riesco a startare esci tec non è verano questi menù oh my zombie ecco questi sono altri invece nrg basta tutti nrg nrg idiocano ma che nrg fan schifo si si ma tutti con quel tag ma quello che si sentono forti capito quello è ciambe destra sarà ciambe max max vai zazà buttassù di gana non posso 1 che cazzo va la miss nrg nrg non è possibile non è possibile no non è possibile no guarda in visor guardate infine ok mh immaginna ma mh mi ragazzi mi ragazzi sign indec Che coglione Destra, destra veloce Vabbè, ci è arrivato Ci è arrivato Tec, tec, tec Oddio, che cazzo ho tirato 120 Cazera Non c'è Eeeh 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 TECTEC Eeeh Eeeh Vabbè una volta la missa, una volta la prima Non capisco Eeeh eh ma frate, non so mai quando tiravo, volevo tirarla bene non fate i fake a trenare ah c'è questo, madonna zio vabbè è mega scatto su questo guarda io no, va a dirige dai cazzo ma, va sempre di la? niente, non posso vincere le due da un'altra fila nice solo perchè ti ho visto passarmi davanti se no ci davamo due niente vabbè da, abbandoniamo, basta, disinstallo il gioco no, più volte no, sono serio, non è possibile fai tu, niente no, porco diro, ma ci sono sei volte che pigliamo gol perchè ci scordiamo e non vado fai una furbata e vai tanto male a tutti gli altri a kickoff, non ci vado io, tanto per l'uomo più sfigato questi danno kickoff questi riescono a giocare bene, giocando anche uno in difesa, uno rinnovano che mi anche per i nostri boost mi sono visto i nostri boost questi me li sto rubando tutti i boost giocano bene raga, giocano bene niente, io non ho boost da un'ora, continuano a fregarmelo ok c'è vabbè vostro il cazzo ti credi di scemo di merda ma ti prendo ti stacco le ossa eh coglione niente passano 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 vabbè niente eh va dai tanto deve andare no basta ragazzi no no guarda voglio essere un bannato mi ha tolto il c3 ovvio si hai perso un 50 dai vabbè vado ciao ciao poi perisco giocare a forment guarda non c'è un rank da perdere fa schifo quindi non c'è bisogno di affezionarmi ma è una fortuna che adesso parto almeno lo lascio senza lì questo troppo di merda non c'è vediamo se c'è un nuovo però un salto giù quello che si parla schermante non questo ecco questo se me lo fai aggiungere allora https ok 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 se volete mangiare c'è anche un sugo già pronto che ho fatto io lo devo tirare fuori ok 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 Grazie a tutti. 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 Tutti ormai. Beh, fa schifo, si sa. Questa nuova risoluzione, zio cane. No, non è molto bene. Quattro storming in parzetti diversi Basta oggi faccio tutte le sfide del pass Voglio arrivare alla skin di livello 100 Dalla prossima partita Dalla prossima Me le ho lette, non mi ricordo quali sono A volte 87, a volte 240, toglie il bo Un po' così a cazzo, come capita? E' un lancio di dadi pure sforte Lancia il dado e dici, oppla, quattro Poi magari l'altro ti spara, oppla, 326 E te li vedi che puoi bene anche gli shieldini Di Papa Francesco, ma muore Dio, bo Ma oggi cos'è? Già domenica Eh, cazzo si Oh, ma te pensi Poi 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 oh ok Grazie a tutti Ma dov'è che si è piazzato? E' un fiolo Te guarda che bambino Ma guardalo che bambino Un fiolo di quelle epocali Proprio una grandezza epocale Sei messo in una stanza con quel cazzo di Di mitragliatore Io non ci credo Mi gira il cazzo C'è la gente pensa di saper giocare Quando gioca così E' un fiolo di 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 Ma perché la mia arma spara i colpi Di sapone Dio porco Cazzo Che gioco di merda Adesso è Ringo Felizium Ma non ci gioca nessuno Come no? E' da solo non mi gioco Il Ringo Felizium Non ci sono più di giocare E' vabbè gioca a vorre Come si sa Beh ho capito Ormai ho imparato C'è So cosa è Forney So come si gioca Il Ringo Felizium E' la stessa cosa E' la stessa cosa un po' più seria Balla in diversi luoghi proibiti Balla in cima Una corona di camper Non mi interessa Visita Non mi interessa Sfida un avversario Ma vaffanculo Non riesco Non mi interessa Sfida un'avversario 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 no, ecco il giro Sì 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 Come ti chiami? Overall rating Ah Il rating è 2002 Ah ho capito C'è esiste il rank rating? C'è esiste un rating? Sì Sì Come ti chiami? Zard Siamo su Steam Eh no ma qua si aggiungono separati Ah ok Quindi ad friend Con l'h finale? Sì Sì Penso di chiamarmi così Sì Sì Ok Non so come cazzo cambiare mappa Porco Dio Custom Live Come ti invito? Aspetta Ti invito io Adesso che ho messo il nome E No Vado a fare play Oh Dark Vabbè Scemo Deliz Deliz Frame Come si invita la gente? No no ma aspetta voglio capire prima come cambiare mappa Custom Ma che mappa Ma che mappa No 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 Non litigate Il tipo di casa mi ha risposto Si ha detto Ha detto che domani che appena un attimo gli devo mandare i tuoi documenti Il contratto da questo febbraio al 30 giugno Va bene Va bene Quanto febbraio marzo frio marzo giugno c'è Giugno? Eh Ah sì sì Beh Non cazzo Non fare anche fino al 30 giugno Va bene Però Sì sì Regà che fatica ma Fare che cosa? Alzarti dalla sedia e andare a Boh Ah sì Basta assetto No A caricare 12 voltro ne hai voluto bastardo un pezzo di merda Eh io boh non hai mai fatto niente quindi dai tranquillo Ma vai a cagare il coglione Adesso per i prossimi 25 anni ti riposerai su quella sedia Ti do fuoco Dategli Io ti do fuoco Un po' GD Tech Cent Parti di questo No Non accettare No perché hai questa skin? Che figa Cazzo Non c'è più l'altra app Non si può più fare Ma tu come si fa a vedere il rank? Che schifo Sto giocando a Ring of the Rising Adesso c'è il tier Non lo so Oh Statistiche Io so Map 1 di 1 Ah vedi sì Figli di puttana Hanno tolto un'altra mappa Perché? Scemi? Vedi c'è sarà sicuramente qualcosa No Non c'ho cazzo Gamesplay 0 Chezza E' impossibile ma... Figli di puttana Ce la facciamo a saltare quanto serve? Eh a sto punto si Poi è molto diverso da come lo si giocava prima Apparenza si vabbè dai Poi... Slay? Start Come si fa a start adesso? Ma perché cambiano tutto in un gioco? Ah start Poi con F5 puoi cambiare prima o terza persona Io siccome lag metterai in terza Cioè il secondo... Prima scusa Tempo stimato 15 secondi siamo già a 18 ma a te guarda No di solito è velocissimo Al primo ho cliccato cazzo mi è partita subito Cioè no mamma che cazzata ma vaffan... La fa a partire Mi sono già rotto il cazzo Lo tomo su Fornite Per due minuti Meno di due minuti Ciao lol Chiari ciao Mi dai un sacco di fazzoletti Grazie mo Season 2 is here Jumping to the action on Europa Island Oh match found Grazie al cazzo Poi vabbè Se vai come Fornite ci vado un'ora a trovare Non è un'ora a trovare Grazie.